Siete pronti ad immergervi nel mondo dei pneumatici? Ecco tutte le novità da parte di Ancook e ce ne parla il marketing manager per l'Italia Stefano Alessiani. Cari telespettatori ben ritrovati e grazie di seguirci così fedelmente tutte le settimane. Oggi parleremo di un argomento molto importante, lo abbiamo anche nel nome ovvero la sicurezza e la sicurezza parte anche dagli pneumatici. Do quindi subito il benvenuto a Stefano Alessiani, marketing manager di Ancook Tire Italia. Ciao Stefano. Ciao Alice, buonasera a tutti. Allora intanto grazie per averci raggiunto in studio perché come di consueto ogni tot mesi dobbiamo parlare di sicurezza e parlare di pneumatici. Allora prima però di addentrarci sul tema che riguarda il cambio della fornitura degli pneumatici insomma dall'invernale all'estivo io volevo un po' parlare di come sta andando il mercato in questo periodo. Allora arriviamo da un 2018 che per alcuni settori del comparto automotive è stato un po' preoccupante. Come si è chiuso il 2018 per Ancook e insomma quali sono magari i settori di maggiore sviluppo su cui punta principalmente il marchio che rappresenti? Per il 2018 per Ancook si è chiuso molto bene, avevamo dei target molto ambiziosi che siamo riusciti a raggiungere in modo molto importante. Per la prima volta dopo anni siamo riusciti a crescere con cifre piuttosto soddisfacenti. Il 2019 è partito, stiamo tutti aspettando che l'astogenialità ufficialmente inizi. Come sai dal 15 di aprile cominceranno le ordinanze quindi dovremo sostituire i pneumatici dagli invernali agli estivi e ci auguriamo a tutti che parta ufficialmente quello che chiamiamo in gergo il sell out, quindi le vendite dei pneumatici. Ecco appunto hai toccato l'argomento che io ho anticipato poco fa, il momento di cambio degli pneumatici che è un argomento che abbiamo affrontato tante volte quindi però è sempre bene ricordare a chi magari non è troppo attento, chi magari non si è mai informato fino in fondo cosa dice la normativa sul cambio degli pneumatici invernali e quando è necessario sgommare la propria auto con la dotazione invernale per rimettere quella estiva. L'ordinanza ufficiale dice che dal 15 aprile al 15 di maggio l'utente ha il tempo per poter sostituire la propria copertura quindi da passare da quella invernale a quella estiva altrimenti si incorre in sanzioni monetarie che possono arrivare fino a circa 400 euro. Conviene sempre laddove si può sostituirli perché come ben sappiamo il pneumatico invernale ha un'ottimale funzionalità al di sotto dei 7 gradi quindi le temperature elevate tendono a consumarli più facilmente. Ancook in questo momento diciamo punta molto sul suo Ventus S1 Evo 3 quindi la terza generazione del pneumatico ultra high performance di Ancook. Quali sono le sue caratteristiche e per quali vetture nello specifico è pensato? Allora è pensato per tutte le vetture. Abbiamo una gamma molto ampia e siamo in grado di coprire dalla city car al SUV. Come dicevi giustamente tu siamo alla terza generazione e questo vuol dire che c'è stato un avanzamento in termini di tecnologia, di particelle chimiche sviluppate al suo interno, ha delle caratteristiche molto marcate su frenata, handling, aqua planning, insomma nel corso degli anni abbiamo sviluppato il prodotto per cercare di migliorarlo e questo Ventus S1 Evo 3 pare proprio essere il nostro prodotto di punta. Ecco si parla di pneumatici estivi, pneumatici invernali ma io tornerei anche sull'argomento che riguarda i cosiddetti all season. Intanto volevo capire Ancook che tipo di prodotti offre da questo punto di vista ma anche sapere il tuo parere, sono davvero così performanti questi pneumatici che vanno bene un po' per tutte le stagioni? Allora il nostro prodotto è il Kiner G4 S2, siamo alla quinta generazione e come ben sai Ancook a livello di sviluppo, ricerca e sviluppo è sempre molto attiva quindi questo prodotto è tecnologicamente avanzato e dipende dall'utilizzo che se ne vuole fare nel senso che sicuramente va incontro alle ordinanze per cui sia nel periodo estivo che nel periodo invernale se un'auto monta al quattro stagioni è tranquillo, non si incorre in sanzioni. È comunque considerato un prodotto ibrido, non è un prodotto invernale al 100%, non è un prodotto estivo al 100% quindi potrebbe dare dei problemi in termini di performance soprattutto con grandi quantità di neve. Questo è quello che riguarda il settore autovettura ma Ancook si rende protagonista anche per quanto riguarda il trasporto dei mezzi pesanti quindi degli pneumatici autocarro. Da questo punto di vista a volte vale la pena ricostruire lo pneumatico, corretto? Sì, è corretto. Ancook, detta di tutti, ha una carcassa ricostruibile molto buona per cui con un prodotto Ancook si può arrivare a una ricostruzione fino a tre volte. Abbiamo poi un prodotto ricostruito che nasce dalla ricostruzione che si chiama Alphatread che fa parte del gruppo Ancook ed è un prodotto assolutamente funzionale e funzionante nel senso che ti permette di fare tutti i chilometri che un trasportatore fa durante le sue giornate lavorative. In termini di invece trasporto pesante come dicevi tu abbiamo una gamma molto ampia anche sull'autocarro che va dalla lunga la media, la breve percorrenza, cava cantiere, mezzi urbani anche per cui gli autobus. Insomma sicuramente copriamo tutta la gamma che ci viene richiesta. Ancook poi anche sinonimo di sportività abbiamo parlato più volte delle sponsorship che avete nel mondo sportivo sia legate al calcio per esempio dalla stagione 2018-2019 vi legate anche al Napoli Calcio e la sponsorizzazione di UEFA Europa League da questo punto di vista credo che abbiate ottenuto numerose soddisfazioni. Sì assolutamente diciamo che noi che siamo un'azienda automotive accostarci al calcio è stato il modo più veloce per far sì che la nostra brand awareness venisse crescere velocemente e dare così riconoscibilità al brand. Negli scelte che l'azienda ha fatto soprattutto con la sponsorizzazione dell'Europa League che ti dà la possibilità di avere una vetrina molto ampia in tutta Europa, con il Real Madrid che è la prima squadra di calcio al mondo e con l'ultima acquisizione fatta quest'anno che è il Calcio Napoli diventando partner istituzionali per le prossime due stagioni che comunque sta dando ottima visibilità e comunque ottime soddisfazioni visto che è seconda in campionato e probabilmente arriverà a mantenere la posizione fino a fine stagione. Nell'ambito nel comparto degli pneumatici in che modo le aziende possono contribuire e cosa sta facendo Ancook? Quali tecnologie sta sviluppando anche a supporto dell'ambiente? Innanzitutto ti dico che Ancook ha un prodotto che possiamo chiamare eco sostenibile, eco compatibile che è la gamma Kinergy Eco che anche lei è arrivata alla sua seconda generazione col Kinergy Eco 2. Sono prodotti che ti permettono di consumare meno carburante perché avendo bassa resistenza al rotolamento creano basso impatto con l'aria e quindi di conseguenza il pneumatico ti permette di dare consumi molto più ridotti. Ogni giorno noi cerchiamo di trovare soluzioni anche nell'impatto sull'ambiente perché comunque dobbiamo essere il più green possibili ed è una delle mission che Ancook porta avanti tutti i giorni. Certo, vi fa onore questa cosa. Allora io Stefano ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te Alice. Ringrazio anche i nostri telespettatori e ripasso la linea ad Elisa.